Noi te lo vorremmo salutare quando parla il mondo, noi vorremmo dare un messaggio perché intanto lo vogliamo dire a tutto il mondo, tu non ce l'hai, non hai i nostri amici, ma se lo facciamo andare bene. Valentino, mandi a piazza, andai a casa, a noi a piazza. Bravo, 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 bravo. E allora, siccome abbiamo parlato con le mogli, noi li salutiamo, le mogli ci hanno detto vita a tutto il mondo che noi vogliamo bene a Salvatore, a Salvatore, a Torre, a Mazzini Uniano, a Gironi, di dire al governo uniano di raffirarli e andare. Noi siamo stati educati, li abbiamo lasciati andare da loro, adesso loro dovrebbero andare. Allora le mogli mi hanno pregato di accennare questa cosa, te la cantiamo e ci salutiamo perché abbiamo una diretta con la Rai, come faceva? Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua, c'è ancora tutto come l'hai lasciato tu. Ciao!